ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario kinzico informazioni commerciali titolare agro la v spa concessionario agro la v spa confezioni kinzico os 25 kg formulazione 1 kg uguale vitt a stab protetta e 672 500 mila ui vitt b6 150 mg vitt d3 stab protetta e 671 50 mila ui vitt b12 1 mg vitt e al fatto coferolo acetato 91 per cento stab protetta 1000 mg vitt pp 5000 mg vitt b1 500 mg vitt c200 mg vitt b2 150 mg vitt k3 menadione sodio bisolfito 150 mg colina cloruro 2000 mg iodio k ioduro e 255 mg zinco z n ossido e 6 2500 mg cobalto co carbonato e 350 mg manganese m n ossido e 5 2000 mg silenio na selenito e 8 30 mg ferro fe carbonato e 1 100 mg zolfo fiori 2000 mg rame q solfato e 4 250 mg componenti minerali sostanze aromatizzanti ed aperitivi naturali prodotti e sottoprodotti dei cereali in grani aroni indicazioni permette la prevenzione del problema protozoario e limita drasticamente la diffusione dell'infestazione poiché copyright agisce anche sulle ocisti eliminate dall'animale attraverso le feci questo determina maggiore igiene ambientale e netta riduzione dei casi di reinfestazione presso l'allevamento infine si rammenta la necessità di operare una corretta e funzionale pulizia e disinfezione degli ambienti poiché a copyright il microclima a favorevole alla sporolazione delle ocisti posologia distribuire accuratamente miscelato colmangime alla dose di 151 65 kg barra 100 kg di alimento completo pari a circa 150 165 g per capo al giorno fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato